Uno dei 18 siti più inquinati della regione, ricadente nel comune di Bovalino, è stato al centro di un servizio trasmesso nei giorni scorsi da Strisce la Notizia. E oggi il sindaco Vincenzo Maesano ha convocato una conferenza stampa per chiarire i provvedimenti adottati dalla sua amministrazione in materia ambientale e respingere le accuse. La situazione di contrattacinare è nota a tutti dal meno del 1980, da quando è andata in disuso la stessa discarica comunale non è stata più utilizzata. Ovviamente la posizione dell'amministrazione comunale, che è quello che mi interessa di più, è che dal giugno del 2017, dall'atto del nostro insediamento, abbiamo fatto tutto quello che non si è fatto in 5-6 anni, cioè dal 2012 in avanti, quando c'è stata la prima approvazione della convenzione con la regione Calabria, a cui non è stato fatto seguito. Le ultime piene del torrente Careri hanno riportato alla luce a massi di rifiuti a poche centinaia di metri dal mare, ma la bonifica non è stata ancora eseguita. Questo impegno profuso in sei mesi, fosse stato profuso dal 2012 al giugno del 2017, certamente a quest'ora la bonifica sarebbe stata pure ultimata. Ilario Balì per la Cineus 24